Ricco fine settimana di gara da Cireale, dove si sono svolte le prove di zona sud di Fioretto maschile e femminile. In palio, i pass per la prova nazionale di qualificazione agli assoluti 2018 e la serie C2 di zona per le squadre di spada. Nel Fioretto maschile una presenza d'eccezione, il campione modicano Giorgio Avola, con i colori delle fiamme gialle, suo gruppo sportivo militare. Costretto a passare alle qualificazioni zonali, causa l'incidente di percorso nella prima prova di qualificazione nazionale, dove si fermò ai 32esimi e il non aver potuto disputare la seconda prova nazionale dello scorso anno per infortunio. Avola non ha deluso le attese, scendendo in pedana con una grande umiltà in una gara disputata l'ultima volta da Under 17, più di dieci anni fa, e è onorata la gara vincendola. Brillante anche la prestazione per la squadra della Conad Scherma Modica, di spada maschile, che ha disputato la serie C2 di zona sud. Il team, composto da Angelo Migliore, Giovanni Cartia, Manuel Puccia ed Emanuele Zaccaria, dopo il girone preliminare, ha affrontato e vinto il primo scontro diretto con Messina Scherma agli ottavi per 45-31. E ai quarti di finale si sono posti i cosentini di Platanie a Scherma, forti del primo posto nella tabellone di diretta. Incontro tiratissimo che si è concluso a fuori dei Modicani per 45-42. Altro bel successo in semifinale per 45-41 contro l'Accademia Olimpica Beneventana, che è valso la finale e la matematica a promozione per la prossima stagione in Serie C1 nazionale. In finale sono stati poi superati per 24-45 dalla circolo Scherma Ionica. Prossimo weekend tornano in pedana gli Under 14 con la prova squadra della Trofeo Kinder Sport a Roma. Ben 7, team della Conad Scherma Modica della categoria Ragazzi Allievi Maschili e Femminili e della categoria Maschietti Giovanissimi.